ciao carissimi amici bentornati a un tè con elena questo solotto virtuale in cui parliamo prevalentemente di libri ma non solo allora oggi almeno lombardia è una tristissima giornata autunnale quasi fredda c'è una pioggerellina uggiosa allora oggi in realtà è la vigilia di domenica di elezioni io non voglio parlarvi di non faccio propaganda elettorale a parte che c'è il silenzio elettorale no quello che precede le operazioni di voto e poi non è nel posto né il mio canale luogo in cui si parla di politica inteso come partiti quindi non faccio propaganda a nessun partito però ieri casualmente mentre facevo zapping su rai storia è un programma che parlava delle scuole dell'educazione sapete quei bellissimi programmi era ancora in bianco e nero perché avevano i contributi delle teche rai però c'era la sigla finale che era una bellissima canzone che credo tutti conoscano del altrettanto grande ancora di più giorgio gaber è una canzone del 73 dall'album far finta di essere sani tutti conosciamo gaber le sue canzoni ahimè anche profetiche la sigla appunto di coda era la libertà il concetto base di questa canzone che io sento di condividere appieno anche se ahimè non è così diffuso è che la libertà è partecipazione domani si vota io non so per cosa voterete non vi dico per cosa voto io quello che mi viene da dire è che un diritto fondamentale della democrazia e un dovere fondamentale della democrazia è quello appunto di partecipare perché la cosa pubblica è pubblica e di tutti e quindi volevo nel mio piccolo invitare ognuno di voi siete ancora pochi per cui è chiaro che non faccio i grandi numeri ma andare a esprimere il proprio la propria idea attraverso il voto domani si vota dalla mattina fino alla sera solo domani per cui mi viene da dire andate andate a votare lo dico ai giovani che ahimè stanno crescendo in un'italia dove sembra essersi persa la speranza e la speranza di poter cambiare le cose lo dico a chi è più avanti negli anni che tanto non cambia nulla cosa vado a fare ho trovato un brano un brano scusate un pezzo scritto da corriere della sera dell'otto maggio 1974 ed è un breve articolo diciamo scritto da primo levi tutti conoscete primo levi la sua opera più famosa è se questo un uomo primo levi di famiglia ebraica partigiano antifascista che visse questa esperienza devastante e riuscì a sopravvivere dell'internamento nel campo di sterminio di auschwitz quindi io non faccio propaganda politica ma faccio propaganda sul fatto di essere cittadini e di contribuire con nostro piccolo ovviamente pezzettino col nostro piccolo voto a cercare di mettere mano in questa italia meravigliosa in cui soprattutto in questo momento sembra essersi persa la speranza sembra essersi persa la voglia ricordando che tanti pezzettini tante gocce fanno il mare quindi il contributo di ognuno di noi è importantissimo cosa scriveva in questo articolo del 74 primo levi scriveva così ogni tempo ha il suo fascismo se ne notano i segni premuditori dovunque la concentrazione di potere nega al cittadino la possibilità e la capacità di esprimere di esprimere e d'attuare la sua volontà a questo si arriva in molti modi non necessariamente col terrore dell'intimidazione poliziesca ma anche negando e distorcendo l'informazione inquinando la giustizia paralizzando la scuola diffondendo in molti modi sottili la nostalgia per un mondo in cui regnava sovrano l'ordine ed in cui la sicurezza dei pochi privilegiati riposava sul lavoro forzato e sul silenzio forzato dei molti contro il silenzio forzato facciamo sentire la nostra voce fate sentire la vostra voce non pensando solo al nostro piccolo giardinetto come si dice ma pensando a chi condivide con noi la cittadinanza italiana e non solo mi verrebbe da dire ma qui entra nella politica a chi vive in italia pensando soprattutto a chi ha meno possibilità di poter far sentire la propria voce di esprimere le proprie richieste io mi rendo conto lavoro anche in un campo che è quello della neuropsichiatria che è quello del sociale in cui vedo tantissima sofferenza penso a quelle che non ce la fanno arrivare a fine mese penso agli anziani sempre in aumento con tutte le problematiche una madre molto anziana per cui è una problematica che sento penso ai nostri adolescenti che stanno male e per i quali non si sta facendo abbastanza domani andate a votare perché il voto di domani spero possa far sentire a chi ci governa e ci governerà che la volontà popolare è quella di pace in un mondo sconvolto in questo momento da conflitti sanguinosi pensiamo a russia ucraina pensiamo alle lotte delle donne in iran per poter esprimere la propria libertà di scelta pensiamo a tante sacche di dolore e di sofferenza che ci sono attorno a noi non facciamo finta di non vederle e cerchiamo di partecipare attivamente anche attraverso il voto di domani a quella che vorremmo diventasse un'italia migliore un'italia più umana e un'italia vicina ai propri cittadini tenuti a partecipare alla cosa pubblica attraverso diritti e doveri con questo vi saluto vi do un arrivederci a presto questo video un po particolare rispetto ai miei video se vi è piaciuto mi piacerebbe che commenta ste mettete un like spero di non attirarmi parole brutte da parte degli haters e se vi piace il mio canale iscrivetevi a un te con lena elena scusate farfuglio oggi un te con elena canale youtube a presto e ciao ciao cari amici